Credo che sia evidente a tutti che non esista una razza italiana, per cui è un falso problema quello di immaginare un concetto di questa natura. Esiste però una cultura, un'etnia italiana, quella che definisce la tercana e aggruppamento del linguistico-culturale, che oggi immagino in questo convegno si tenda a tutelare, perché se no non avrebbe senso. Noi abbiamo un incremento demografico mondiale di 75 milioni di persone l'anno, quindi la popolazione del mondo cresce e tanti di quelli che nascono nel mondo vorrebbero venire a vivere in Italia. Allora perché preoccuparsi delle nascite in Italia? E se la risposta è, come tutte le forze politiche presenti, quella di incrementare la natalità, probabilmente per ragioni legate alla difesa di quella appartenenza a cui molti di noi sono legati, io in particolare con orgoglio, che è quella alla cultura italiana, al nostro ceppo linguistico, al nostro modo di vivere, così come allo stesso modo credo debbano e possano essere orgogliosi tutti i popoli con uguale tutela e uguale diritto e quindi ci siamo confrontati su quelli che devono essere gli interventi, che siano utili e non possono che essere quelli di liberare uomini e donne in particolare dalla paura, dalla paura di non avere un futuro, di non avere una possibilità solida, mettendo al mondo dei figli, di poterselo permettere, di non avere una casa anche in giovanità quando sia più fertili e magari se si abboglia si possono mettere al mondo dei figli e su questo ci siamo confrontati tra forze politiche tutte che si sono dette concordi a operare in maniera sinergica. Noi ne siamo contenti, noi siamo al governo solo da sei mesi, in questi sei mesi abbiamo non solo confermato tutti gli interventi che sono stati richiamati e che potevano favorire un welfare migliore per garantire un incremento demografico, ma abbiamo anche implementato le cifre a questo destinate e per Fratelli Italia è sempre stata una priorità questa, lo abbiamo fatto sostenendo qualsiasi intervento anche dei governi che ci hanno preceduto, che poteva dal nostro punto di vista essere utile e continueremo a farlo sperando che ci sia un atteggiamento da questo punto di vista solido, collaborativo, fattivo di tutto il Parlamento. Le risorse però non bastano per tutto, bisogna darsi delle priorità, io posso dire con sufficiente certezza che per Fratelli Italia questa è una priorità assoluta rispetto a tante altre che pur sussistono e che vengono sottolineate come importanti. Speriamo lo siano per tutti, ci sarà la prova dei fatti a dimostrare ai cittadini che poi giudicano e decidono se permettere a un governo di andare avanti o di interrompere il suo percorso quando è la scadenza naturale o addirittura attraverso i propri rappresentanti prima.